Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Si informa che è in atto uno sciopero dei treni fino alle 2 di domani, lunedì 9 settembre. Non sono previste fasce di garanzia. Domani invece sciopero degli autobus dalle 14.30 alle 22.30 e della tramvia a Firenze dalle 9.30 alle 17.00. In quest'ultimo caso possibilità di disservizi per tutto il giorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!